La dottoressa Ciccellini, la Claudia, mi fece la proposta per il protocollo sperimentale di nuovi farmaci, alle quali, mi dispiace, forse sarà rimasta male, non ho aderito. Però fu molto sincera, io feci una domanda diretta, è indispensabile o non è indispensabile? Lei mi ha documentato con una quantità notevole di manoscritti che mi sono letto giorni, notti e tre volte. Io sono arrivato alla conclusione che potevo anche fare meno, ma è un egoismo, probabilmente in quel momento in cui me lo sottopose ebbi quella molla che mi disse, ma allora, delle due U non sono la fine oppure forse è solo un esperimento. Dico, cosa ho perso? Questa è la domanda, nel non averlo fatto. Vorrei aggiungere questo, da persona che ha aderito a uno studio clinico, ed è qui grazie a quello studio clinico, sai cosa si rischia? De fare un salto nel futuro. Diversamente è riuscire ad avere una terapia che altri avranno fra 5-10 anni, dipende dalla durata dello studio clinico, che porterà dei risultati e porterà alla registrazione di quella cosa. Diversamente, come diceva anche Fabio, durante il suo intervento, uno studio clinico, in Italia in particolare, ha una parte, una componente etica non indifferente. Non ci verrà mai proposto un qualcosa di sperimentale, non perché siamo a fine vita, e quindi non abbiamo altro, perché nella logica, anche a me quando fui diagnosticato, molti mi dissero non entrare nello studio clinico, medici, mi dissero non accedere allo studio clinico. Io incontrai Garattini al supermercato a Todi che ci parlavo, dico professore ma io devo fare questo e quest'altro, e lui mi disse proprio questo, dice lasci perdere gli altri, lei pensi che lei si sta facendo uno studio clinico, aderisce a uno studio clinico, sarà più controllato di tutti gli altri, avrà non un medico che la segue, ma dei protocolli rigidi a cui i medici si dovranno attenere, e rischia soltanto di provare una terapia rispetto allo standard attuale, quindi come diceva prima la dottoressa, io sono stato randomizzato all'epoca sull'interferone, che è un'altra malattia la mia, e poi ho fatto il farmaco per cui è stato poi registrato, e lo stesso poteva succedere a te, però non rischi nulla perché il farmaco è già stato testato, prima di arrivare in terza linea, in terza fase, è già stato testato sia per sicurezza che per tossicità, e quindi non ha i rischi, diversamente c'è proprio un'etica dietro, non viene approvato se eticamente il paziente, la persona, viene sottoposto a una sperimentazione senza saperne eventuali problemi, invece viene approvato soltanto se c'è la certezza che non gli faccio correre rischi maggiori di quelli che correrebbe facendo la normale terapia, questo è fondamentale per tutti, fate attenzione, accettateli quando ve li propongono, poi la libertà di accettare o meno c'è sempre, però non vi sentite delle cavie. Grazie, se posso fare una replica a questo tema, da ex coordinatrice di un comitato etico, mi sento anche di dire che nell'accettazione di partecipazione a un protocollo sperimentale, visto e considerato, come è stato detto, che comunque il paziente non rischia nulla perché comunque gli viene salvaguardata la terapia standard che ci sarebbe stata fatta al di fuori del protocollo sperimentale, c'è anche un senso di solidarietà nei confronti degli altri pazienti, nel senso che io non partecipo allo studio tanto e solo per avere io un beneficio diretto, perché a quel punto tutti gli studi randomizzati sarebbero assolutamente disconosciuti dai pazienti, perché non si sa chi riceve il trattamento buono, tra virgolette, valido, quello quantomeno oggetto di studio rispetto all'altro, ma io lo faccio perché altri possano usufruire di quei risultati che provengono da quella ricerca. Quindi il signore che ha parlato adesso ha detto, ho fatto un gesto egoistico, è molto bello quello che lei ha detto, perché effettivamente lei ha capito perfettamente il senso della sperimentazione e il ruolo del paziente che aderisce alla sperimentazione. Quindi questa sua autocritica e riflessione sia comunque un pensiero che attraversa sempre i pazienti perché non viene fatto solo e tanto per se stessi, perché non si ha la garanzia che possa effettivamente ritornare un beneficio in questi termini, ma viene fatto per una comunità di pazienti che possono usufruire, tra cui anche lo stesso quando sarà il momento. Scusate. Mi dispiace perché ho già parlato tanto, sono sempre a Mario Lupi, mi dispiace. Però adesso vorrei due minuti fare l'ematologo che ho già detto che ha i capelli bianchi e rivolgermi a una persona che non c'è in questa sala, nel senso che è chiaro che non stiamo facendo adesso il caso, il singolo caso o il singolo paziente. Io ho assistito, insomma, dirigo dal 2010 l'ematologia di Mocchi, un po' di anni, mi sono laureato nel 1989, quindi un po' di anni che faccio l'ematologo. Io come spettatore ho assistito, credo, a un'ottima dimostrazione di come deve essere da parte di un centro, dalla collega dell'ematologia di Ravenna, la presentazione della opportunità, della possibilità di uno studio clinico moderno, innovativo. diceva il paziente, non qui in sala, un paziente, bello sarebbe se, ed è avvenuto, il medico dedica un sacco di tempo, e magari ci torna un'altra volta, un'altra volta ancora, a spiegare le caratteristiche di questo studio. Ha detto un malloppo così di studi. Eh, questo non è scontato. Deve essere fatto e raccomandato a tutti i comitati di questo mondo, ma è avvenuto a Ravenna, è chiaro? Quindi, dopo ripetute riflessioni o spiegazioni, un paziente che si è confrontato con la famiglia, eccetera, ha scelto. La scelta, usciamo dal termine studio sperimentale, è una scelta di un paziente informato, non è uno slogan, perché è stato detto, quella dottoressa gli ha spiegato tante volte, con tanta letteratura, a quel punto, scusate, adesso sono un singolo, una singola persona, non più l'amatore, secondo me basta, e avanza, e onestamente, fermo restando tutto il valore della sperimentazione, eccetera, eccetera, io credo che noi ci dobbiamo fermare qua. C'è una persona, un paziente, una sua famiglia, che però, informati con una relazione di fiducia che dura da tempo, fanno una scelta, non uso la parola libera, che usiamo tante volte, una scelta consapevole, è chiaro? Noi dobbiamo fare il possibile di fare scelte consapevole ai pazienti, ai familiari, che siano in linea con i loro valori, e delle volte possiamo anche non essere d'accordo, perché quando ci faccio lo sperimentatore, ci credo inconsciamente, no, la dottoressa è stata neutrale, è stata proprio, ha fatto bene il suo mestiere, quindi dall'esterno, scusatemi, tutto qua è spontaneo, non preparato, ma mi sento di dire, è una bellissima esperienza che sto facendo oggi, di come dovremmo tutti, nelle nostre ematologie, cercare di fare.